Ciao ragazzi, benvenuti dal team del Centro Musica. Chi è Noirev? Noirev sono io e faccio elettronica da posizione orizzontale. Chi è Chris Costa? Chris Costa è uno che si è messo in quarantena tre anni fa circa per fare ricerca musicale assieme a un suo amico che si chiama Luca Fronza e a un certo punto ha creato Hot Dust, che è questa cosa qui, dipinta da José Molina. Quindi ci ha messo sempre Chris Costa, lui, un anno e mezzo per fare il disco, forse anche di più, e più di un anno per preparare questo live, che finalmente ha trovato la tecnologia giusta per portare alla luce questa cosa qua. Cosa vorresti arrivasse al pubblico con una parola? Trascendenza Trascendenza. Io suono perché cerco quella cosa che mi fa volare via e che mi faceva volare via già da bambino e quindi io spero che questa cosa arrivi anche a chi ascolta. Musica e? Musica e cibo Musica e... beh, avremo anche delle proiezioni che sto preparando in collaborazione con Matteo Bittante, che è il mio vicino di casa che sta lì, con cui ho fatto anche il mio video, il primo video Grey Skies. È uscita una cosa molto particolare, quindi nel tempo man mano che andrà avanti questo progetto sicuramente verrà sempre più legato anche a cose... a cose visive e un po' alla volta. Perché Lucio e Amanda devono venire al concerto di venerdì? Perché c'è Chris Costa. Beh, come mi diceva il mio insegnante di canto mille anni fa, se tu non fare volare di sedia a persone, tu non servire niente. Fate un saluto. Grazie mille, veramente al Centro Musica, grazie al Centro Santa Chiara, grazie al Teatro Sociale, grazie a Lorenzo Frizzera, grazie a Giulia e grazie a tutti perché è una cosa bellissima. Grazie anche a Noirev che mi piace tanto, grandissima artista, meravigliosa. E grazie a chi verrà, grazie a chi verrà. E grazie anche a... Ciao! Ciao!